Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi successivamente è uscito assolto da tutti gli altri procedimenti a suo carico. La corte assiste di Perugia assolve Andreotti Giulio, Italuni Claudio, la Barbera Michelangelo e Carmina T. Massimo, dal reato loro ha scritto in rubrica per non aver commesso il fatto. Ma una volta tornato libero, i carabinieri del Ros scoprono che l'ex estremista nero usa dei telefoni riservati per parlare con Salvatore Buzzi, un imprenditore delle cooperative rosse molto noto a Roma. Dalle intercettazioni, i due sembra siano in società e le cooperative di Buzzi vivono grazie alle commesse del Comune di Roma. Qual è il legame tra un malavitoso ed un imprenditore che lavora con la politica? Gli inquirenti devono capire. Tutte le mosse di Buzzi e Carmina T. vengono registrate. Gli inquirenti devono capire. Gli inquirenti devono capire. Gli inquirenti devono capire. Eccomi. Ciao Salvatore. Sono qui con Lynger, te lo passo? Sì, grazie, grazie. Ok, ciao. Vai, passle a togliere i guai, Tevran. Buongiorno, buonasera Riccardo. Come stai? Eh, se sopravvive. Senti, questo testone di cazzo che stanno con te su quella storia di Marco Polo. Se noi facciamo un piano di rientro in 5-6 mesi, sono disposti a togliere il decreto ingiuntivo o se no andano avanti col giudice e chi se ne prega? L'intercettazione che dà un po' il senso della svolta all'indagine la capiamo a dicembre del 2012. Da subito emerge questa figura di Riccardo Mancini, che all'epoca era amministratore delegato lì in euro. Allora, no, perché questo c'è un cazzo di telefono che è tutto elettronico qua. Io con la guancia spingo una cosa e smettavo. Ce ne senti? Sì, se ne sento bene. Allora, se noi facessimo il piano di rientro su 6 mesi, questi geni sono disposti a visitare il decreto ingiuntivo o no? Se non c'è riduzione penso di sì. Io l'incontro martedì, l'incontro. Allora, fai questa proposta e fammi sapere. Senti Riccardo, io ho pure l'ultima fattura, quella dei 152 mila euro che non si trovava. Tanto che si è trovata, si è riuscita a pagarmela? Vabbè, noi vediamo, vediamo. Un abbraccio forte, ciao. Enteor, che è una delle più grosse società partecipate dal Comune di Roma, con una serie di enormi commesse. Commesse relative alla gestione del verde pubblico e alla manutenzione e pulizia dei monumentali palazzi. Appalti milionari che vengono affidati dall'amministrazione comunale a ditte società private. Tra queste spiccano le cooperative di Salvatore Ibuzzi, nelle quali è da poco entrato il suo amico Carminati. Vado poi domani a farmi un giro lì da amici notti per vedere se possono accelerare quelle definizioni dei pagamenti. Io guarda, ho sentito l'amministratore proprio poco fa, celebra, che stava dedicando i pagamenti ahhh, ahhh. Ah sì? Eh, ma noi li fanno molto prima, ma anche la tutta. Anche perché ce l'hanno pagare ancora la fattura 152 che stavano a pagare. No, è certo. Ma quella, ma che aspetta, no che le roba vecchia, ma quando te la pagano? Vabbè, non veniamo se la riesco a pagare un po' vecchia e un po' nuovo, insomma. Prima che rimangono definitivamente legati, prima che li cacciano via in malo modo, perché tanto così succede. Comprate il cogliale della sera di oggi. Sì, se l'ho letto, ma ormai stanno tutti in delirio, non sanno più che cazzo devono fare, capito? Queste scarse capacità giustamente hanno paura che il popolo ricacciagli a calci, però eh. Ma le cose nostre, cerchiamo di chiudere il dubbio, perché è chiaro. Ma capito, amico, amico, quelle lì sono cose di lavoro, quelle lì, c'hanno il tempo loro purtroppo, capito? Buzzi e Carminati sembrano preoccupati per il destino della giunta di destra guidata dal sindaco alemanno, presa di mira dai media e colpita da qualche scandalo. Uno di questi riguarda proprio Riccardo Mancini, nominato per volere del sindaco. I magistrati indagano su una maxi tangente da 500.000 euro per l'assegnazione di un appalto per gli autobus della capitale. Indagato è Riccardo Mancini, fedelissimo del sindaco alemanno. In questi ultimi giorni abbiamo realizzato cose importanti. Due giorni dopo le perquisizioni e l'avviso di garanzia, però, come se niente fosse, lo stesso Mancini si regala un'altra carica, decisa dal consiglio di amministrazione Ente Euro S.P.A., di cui lui stesso fa parte. Diventa amministratore delegato della nuova società Roma Convention Group. Altro che dimissioni, come chiedeva l'opposizione. Raddoppio con nuovo incarico, piuttosto. Una coincidenza sfortunata o sospetta che fa irritare perfino il sindaco alemanno. Sia Mancini che Alemanno sono stati inizialmente inquisiti in questa indagine, ma successivamente prosciolti. Riccardo Mancini ha un passato burrascoso nelle file dell'estremismo di destra, proprio come Carminati. È lì che si sono conosciuti 40 anni fa e certe amicizie non sbiadiscono mai. Riccardo, quando me ti dice che sono un guerso maledetto, io gli dico che stai scoppiando, sei un ciccione e magari mori. Al di là del suo passato, in realtà poi lui è diventato uno degli uomini di Alemanno. Lui, come tanti altri, dall'aggiunimento Alemanno era stato messo a capo di grosse aziende partecipati. Nel momento in cui noi cominciamo a captare le prime intercettazioni importanti, spunta subito Mancini. Anzi, Mancini mi è indicato come colui che ci sta a passare i lavori buoni, così dice Carminati. Ma nonostante buoni rapporti, l'ente Euro, gravato da altre spese, continua a non saldare i debiti con le cooperative di Buzzi e Carminati. Amico mio, bello mio. No, ti ho detto una cosa, chiedi ho sentito un amico porcone, quello che dice il maglia rotta, no? Eh, per pagare c'è una fattura che mancava all'appello, vuole lo sconto anche su quello. Ho detto, scusa, ma a chi altri non glielo chiedi lo sconto a me, lo devi chiedere? No, vabbè, ma lo sconto non scherziamo. Ah, diciamo, ma quella fa parte del vecchio? No, 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 che sconto, che sconto, ci fanno sconto. Ti ho detto a tutti, ma agli altri oggi gli ha fatto la proposta, che gli paghi più migliore, gli sai che sconto. Gli paghi tutto, gli paghi tutto. No, no, ma sconto, abbiamo la vita intercettata, ma non ce l'ha capito che te lo voglio dire. Chiaramente, cioè, l'importante è che ti pagano tutto il vecchio, amico mio, questo è fondamentale. No, quello non ci sa se mi pagano il vecchio, capito? Ah, no. Ma poi mi dici, vieni qui, mi fai lo sconto e te la pago. Ti ho detto, scusa, ma agli altri gli dai due milioni e te lo sconto. Ma adesso ti richiamo dopo, sto andando là, ma ti ha sentito, non hai capito? Ma poi c'è un attimo tu e poi mi chiami, io faccio quello che... Certo, 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 certo. E poi vediamo. Se Mancini non ha capito, bisogna che qualcuno glielo faccia capire. E allora Carminati si rivolge ad un altro camerata degli anni che furono, Carlo Pucci, classe 61, primo arresto a 20 anni nella stessa retata in cui era coinvolto Carminati. Ora funzionario di EUR S.P.A. Pucci al telefono, eh. Pronto? Oi, amico mio. Tutto a posto? No, sì, tutta a posto. Però ieri sera la stessa persona gli ha detto... Non ci sono sconti, non ci sono sconti. Io ho detto, gli ho accettato sconti. Non ci sono sconti. Non ci sono sconti. E dirgli pure di non fare battute, perché continuano a fare battute stupide, se il ricazzo era a chiudere la pratica. Ma la moglie la faccio chiudere io. Eh, mi raccomando. Bello. Ciao, ciao, ciao. Carlo Pucci, Massimo Carminati, Riccardo Mancini, Gianni Alemanno. Quattro ex ragazzi militanti nell'estrema destra romana alla fine degli anni settanta. Tutti partiti dalle sezioni romane del movimento sociale. In un periodo di confronto e scontro fisico quotidiano con i coetanei di sinistra e con le forze dell'ordine. Cioè, io sono un vecchio fascista degli anni settanta. Sono contento di essere così. Mi sono morti tanti amici e sono contentissimo di essere quello che sono. Cioè, così i giornalisti domani si divertiranno. Però questa è la realtà. Io ho nulla da nascondere. Questo sia ben chiaro. Poi uno di loro rimase nell'ambito della politica ufficiale, facendone un mestiere, prima nel partito, poi nelle istituzioni, fino a diventare deputato, ministro, sindaco di Roma. Gli altri invece abbandonarono presto il partito per aderire alle formazioni armate. Furono indagati, arrestati e condannati. Poi, passati gli anni, uno è rimasto nell'ambito criminale, continuando a fare avanti e indietro con la galera, mentre gli altri due hanno recuperato le loro vite borghesi fino a diventare imprenditori o manager di successo. E con la giunta guidata da Gianni Alemanno, hanno avuto accesso alle stanze del potere romano. Beh, anche Pucci, insomma, anche lui militante nell'area della destra di Roma, all'epoca funzionale dell'ente Eur, ed era l'interfaccia di Carminati per Riccardo Mancini. Ed è lui che si rivolge poi nel 2012, nei toni che conosciamo, di dire a Mancini, adesso gli butto giù la porta, entra il re di Roma, per far rientrare le cooperative di Buzzi e del credito che quelle cooperative vantavano nei confronti di Mancini e Riccardo, dell'ente Eur in generale, insomma. Mentre Pucci sta provando a chiamare, il suo telefono si trasforma in una microspia e registra questa conversazione. Sì, sono litigato con lui, sono litigato con lui io. No, di capisci, se no viene qua il re di Roma, tu c'è un sottoporto di Roma. S'è il re di Roma che viene qua. Perché io entro tanto nella porta principale, vedo io che è convinto. Ma non mi resta il cazzo, ma non mi resta tutto la pratica. Per cazzo. Ma non mi resta il culo che guadagna la sua. Beh, se è mezzo finale... Ha detto che volò, sconto. Ha detto guarda che ho sconto l'esco. Cioè, a me il sindaco me va al lavoro e non me paga. Io rimanevo basito, io venivo da un mondo diverso. Io quando mi sono avvicinato a questa cosa, non mi rendevo conto che potessero succedere queste cose. Cioè, io vengo da un mondo in cui siamo tutti molto più onesti. Cioè, un'onestà chiaramente al livello più basso che possa esistere. Però c'è onestà. Cioè, noi non è che abbiamo dieci comandamenti, ce ne avremo tre. Però quei tre che ci stanno dei comandamenti, noi li rispettiamo. Le anime belle che stanno sopra, ce ne hanno dieci e non ne rispettano manco uno. Quindi, forse noi rispettiamo più comandamenti di quelli che stanno sopra. Io parlo sempre di sto mondo dei mezzo, mondo dei soldi, che mi è piaciuto tanto con tutte queste, che è diventata una filosofia. Quattro chiacchiere al Barso è diventata una filosofia. Ma tra i comandamenti rispettati da vecchi camerati di Carminati, sicuramente non c'era il quinto. Non uccidere. Il 23 giugno del 1980, un gruppo di fuoco dei NAR decide di ammazzare l'unico pubblico ministero che in totale solitudine aveva compreso la loro pericolosità. Si sono svolte stamane a Roma i funerali del sostituto procuratore della Repubblica Mario Amato, assassinato l'altro ieri da terroristi dei nuclei armati rivoluzionari. Mario Amato aveva 43 anni, una moglie e due figli ancora piccole. Lo colpirono la mattina del 23 giugno 1980 mentre aspettava l'autobus per andare in ufficio alla vigilia delle ferie. Lo stesso giorno in cui i camerati uccidono Amato, per motivi che nulla hanno a che fare con la politica, un altro uomo muore assassinato. Si chiama Giovanni Gargano, a 25 anni, vittima di un regolamento di conti dovuto ad uno sgarbo. Così intuiscono i poliziotti dalle banconote abbandonate accanto al cadavere che l'assassino voleva bruciare ma non ne ha avuto il tempo. In poche ore la polizia scopre il colpevole. Anche chi lo ha ucciso a 25 anni è Salvatore Buzzi, un insospettabile impiegato di banca che con la vittima aveva messo in piedi un traffico di assegni falsificati. Una divergenza di vedute, forse un ricatto. Così Buzzi organizza un appuntamento chiarificatore in un posto isolato. Alla fine non chiarisce e gli infligge 34 coltellate. Allora io sono stato in prigione a Repibbia. In carcere, lui incontri tanta gente. Ho conosciuto Carminali, ho conosciuto Buccio, ho conosciuto Alemanno. Certo, abbiamo buoni rapporti. Si crea quella comunanza, siamo con me, dice dove sei stato? Ho fatto il militare a Cuneo, quindi abbiamo fatto il carcere insieme. Condannato a 30 anni in primo grado, Buzzi fa partire dal carcere la sua rinascita. Il 20 luglio dell'83 si laurea in lettere col massimo dei voti. Un anno dopo, è l'animatore di un convegno senza precedenti. Uomini politici e carcerati riuniti insieme per discutere di misure alternative alla detenzione. Due anni dopo, per Buzzi, arriva la libertà provvisoria, ma soprattutto comincia l'avventura delle cooperative chiamate 29 giugno, al ricordo della data del convegno. Una lealtà imprenditoriale che prende forma e cresce sotto le amministrazioni di sinistra dei sindaci Rutelli e Veltroni, ma che subisce una battuta d'arresto quando la destra di Alemanno conquista la città. Ma Buzzi ha un asso nella manica. Ho la data precisa dell'incontro con Carminati. A me mi chiama Buzzi o Mancini, non me lo ricordo. Cioè, guarda, se vieni a l'Eur che dobbiamo parlare. Dice, stiamo al bar da primo ricordo come se fosse oggi. E ci erano seduti allo stesso tavolo Riccardo Mancini e Massimo Carminati. Che io rivedo Carminati nel 2011, quindi sono 30 anni che non lo vedo. Lo riconosco perché gli mancano occhi, ovvio che lo riconosco. Massimo Carminati dice, ah, che fai, bra, 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 io ho conosciuto veramente Salvatore, conosciuto nel senso di avere un rapporto, un rapporto di conoscenza e di amicizia, secondo me, sicuramente dopo la presentazione di Mancini. E con il passare del tempo, il fatturato delle cooperative di Buzzi, tenuto in palmo di mano dalla sinistra più nobile, per paradosso comincia a crescere in maniera abnorme, arrivando a 60 milioni di euro sotto l'amministrazione di destra. Questa contraddizione apparente tra quello che è il mondo di destra di Carminati e quello che è il mondo di sinistra di Buzzi un po' all'inizio ci spiazza. Cioè cerchiamo di capire. In realtà ce lo spiega Carminati e qual è la verità? Che in realtà non c'è destra e non c'è sinistra. Quello che c'è, ci sono gli affari, ci sono i soldi. E ciò che avviene nel caso dei soldi da recuperare dall'ente guidato dall'ex camerata Riccardo Mancini. Amico mio, stai a posto? Sì, tutto bene. No, ci ha dato euro, ci ha dato altri 250 mila euro, ti ha messo un po' a paura. Beh, ho capito, però, cioè, così, cioè, avete un credito totalmente alto. Esatto, 390 mila euro, ti parlo alla data il 15 gennaio, io l'ho anche detto. Senti, sono in armi, ti richiamo io appena esco, lo ti hai acceso? Sì, sì, non c'è problema. Sì, ok. Bello, ti abbraccio. Ciao. Dopo vari interventi, i pagamenti man mano si vanno sbloccando. Eccomi, amico mio. Quando Buzzi esce dal palazzo, subito chiama Carminati. Riprendono il discorso interrotto mezz'ora. prima. Ah, ieri, ti dico, questo è il 7 di sera, mi chiama Riccardo, mi fa, già, guarda, riuscire a trovare 650 mila euro, più di 140 che ti ho dati, con 390, quindi, muovi quel pagamento. Ho detto, sì, però io il 15 gennaio, ho detto come oggi. Eh, e lui che sta a detto? Ah, poi il 15 gennaio, ne riparlavo, ho detto, poi mi hai fatto fare quella alternativa, ah, io parto qua, parto là, non c'è i soldi, ma che devo fare? E da, lo dì, mi fa fare figure del merda, vabbè, ma questi sono dei pupazzi. Io oggi vedi il tanque, no? Io gli ho detto il tanque, ma perché non mi fai pagare? Il tanque nominato da Buzzi è Franco Panzironi, stazza da carroarmato, movenza pachidermica, una carriera all'ombra di Gianni Alemanno. Quando la destra approda in Campidoglio, Panzironi viene nominato amministratore delegato dell'azienda che si occupa della nettezza urbana a Roma. Noi perché lo chiamavamo tanque, carroarmato con Carminelli? Perché il carriera diceva sì o no, ma se era sì, eri sicuro che la faceva cosa, non era come i mancini, te pago, non te pago, te pago, e poi ti spariva. Panzironi almeno diceva quant'è? Il 2%, ma eri sicuro che poi quel 2% se lo guadagnava. Oggi consideriamo questa azienda in equilibrio. Un'area di interesse altissimo per le cooperative di Buzzi e così il tanca viene messo al libro paga. Salvatore, Quanti soldi ci abbiamo in cassa? In cassa quella nostra? E in cassa totale. E in cassa totale? Guarda, Salvatore, ci dovrebbero stare all'incirca, aspetta, fammi pensare. Ma ci saranno oltre 15, 10, 15? Vabbè, da 10 a 15, va bene. Se li faccio trovare pronti? Ebbene, giovedì mattina alle 8 e mezza, prepari. Eh, lo prelevo pure io, se posso fare. Giovedì mattina alle 8 e mezza, ok? Va bene, ok. Niente, e salsa. Fa quella l'amico panza, 15, vai. Ho messo a 15 al mese, vabbè. No, vabbè, vabbè, 15 al mese. No, 15 al settimane, che altro sto dicendo? Sta uscendo? Ragazzi, mettetevi in posizione che l'appuntamento dovrebbe essere al bar qui di fronte, eh? Sta arrivando? È lui, è lui, ragazzi, c'è una c***a benera. Sta andandosi all'appuntamento al bar, ragazzi, dai, ce l'abbiamo. scendo, sta andando, riesco a un borsello in mano. Eccoli, eccoli, si stanno incontrando. E c'è un borsello in mano? Sì. Tornano al bar adesso. Buzzi se ne sta andando, non ce l'ha più il borsello. No, no, è tutto piegato, ce l'ha in mano. L'indagine si allarga. Gli investigatori arrivano al cuore delle cooperative con le microspie piazzate nell'ufficio di Salvatore Buzzi. in verità, i 30 menzionati secondo Buzzi sarebbero non per il sindaco ma per la sua fondazione. Le richieste di Franco Panzironi detto Tanca non si placano. Io compro Panzironi dieci a sette volte nel 2012 e per dieci a sette volte mi ha rotto le scatole con i soldi. c'è i miei soldi oggi? Sì, per esempio, per cento i 15 mila oggi è l'ultima settimana che non mi vedo. Voleva i soldi, voleva i soldi e voleva i soldi. Da Panzironi a Leo quattro passi a messa e vi torno in giro. Il pranzo di Alemanno, la cena di Alemanno del 6 dicembre viene fuori perché io, lui, gli avevamo da inchiaro non stavamo come dagli l'inchiaro e dico guarda c'è la cena da moglie la staceta. Io avevo già dato dieci mila euro quando mi richiede il puttino. Ti potrei incontrare? Ti potrei incontrare il nostro amico? Quanti giorni abbiamo? 16, 10. Diciamo che le protezioni. E prima ancora avevo dato trenta mila euro alla fondazione De Gasperi che c'entra niente qua le manno e il 15 novembre do al suo cliente 100 mila euro gli abbiamo dato 875 mila euro compreso l'orologio di 5 mila euro. Al tank non si può dire di no. È l'eminenza grigia dei rifiuti a Roma ma è pure segretario della fondazione Nuova Italia la fondazione del sindaco Alemanno. eccomi bello mio eccomi sì. Allora il passano non si era scordato nulla. No, non immaginare il tank il tank ha una memoria di ferro amico mio. Allora siccome la fondazione lì sta a morire fame non c'è più nemmeno i soldi per pagare l'affitto ma è stato un mese che paga l'affitto ma è stato se ne giriamo 15 sulla fondazione per pagare. Benissimo allora è pregiusto. Vabbè vabbè era appena era appena stato dal prefetto ci vengo dal prefetto e ci ha la tartarra perché non ci ritorni e gli ho spiegato qua adesso promettergli niente. Certo hai fatto bene a questo punto parliamo con tutti i balleri. è un buon periodo per Buzzi e per festeggiare l'arrivo del nuovo anno manda ai suoi amici un particolare messaggio di auguri. speriamo che il 2013 sia un anno pieno di monnezza profughi immigrati sfollati minori piovoso così cresce l'erba da tagliare e magari con qualche bufera di neve e viva la cooperazione sociale. Le feste elettorali un po' pacchiane e scosciate erano già diventate nella seconda metà del 2012 l'emblema degli sprechi finanziari e avevano provocato le dimissioni della presidente della regione Renata Polverini l'uomo simbolo dello scandalo è Franco Fiorito detto Batman arrestato per aver dirottato verso il suo punto corrente personale centinaia di migliaia di euro provenienti dai conti del PDL corruzione e frode fiscale sono le ipotesi di reato in questa costola della max inchiesta ENAV sono quattro gli indagati fra questi Roberto Ceraudo ex amministratore delegato della Breda Menarini e Riccardo Mancini attuale AD di EURESPA l'inizio del 2013 è un periodo complicato anche per Riccardo Mancini il 23 gennaio viene convocato in procura e a preoccuparsi non è solo il sindaco Alemanno ma pure Carminati insieme al suo amico Pucci gli ex camerati degli anni 70 E' come il bello mio ecco come ti fai? l'hanno convocato oggi andiamo l'hanno convocato? si fra mattina vabbè io tanto saprò qualche cosa più tardi ma guarda fino a ieri non c'era niente ma io l'ho detto pure io stai tranquillo lui si caga sotto di lì stai tranquillo stai tranquillo che se ci fosse qualche cosa no prima di chiamare lui se ci fosse qualcosa mi chiamare a me sicuramente una minchiale a che ora ci deve andare? a luna è convocato ah vabbè ci sentiamo dopo bella minchia ok ciao Mancini è sotto pressione i magistrati lo incalzano i suoi amici politici gli chiedono di fare un passo indietro così il 24 gennaio fa la mossa che tutti si aspettano mi dimetto per problemi di salute e per difendere in qualsiasi sede la mia onorabilità con queste motivazioni l'amministratore delegato di Euro S.P.A. Riccardo Mancini ha lasciato il suo incarico una decisione maturata dopo la svolta nell'inchiesta su una fornitura di filobus che lo vede indagato quello che sembra preoccupare Carminati e i suoi amici però nonostante le dimissioni di Mancini che dovrebbero preservarlo da un temuto arresto è la sua tenuta psicologica finito nel mezzo di un'inchiesta che promette nuovi sviluppi per questo utilizzando uno dei suoi telefoni segreti Carminati chiama Carlo Pucci a lente Euro Eccomi Eccomi Bello Allora ti ha parlato ma sto tranquillo non ci stacca la capoccia io oggi ne parlo chiaro pure con quell'altro non è che c'è la fatta e se c'è il culo secondo te no non lo so quindi la paura è che lui parli quello è il problema è quello ma vado a far male minore amico mio perché se io fossi sicuro di quello ma che pensi che stiamo ancora a parlare di questa cosa Mancini infatti non parla addirittura il giorno in cui Mancini rilascia delle spontanee dichiarazioni al magistrato come esce dalla caserma della guardia di finanza si precipita sotto lo studio non a incontrare chiaramente l'avvocato perché l'avvocato era con lui a rendere appunto queste spontanee creazioni ma incontra Garminati incontra Garminati e Pucci che erano lì ad aspettarlo e non salgono allo studio parlano sotto all'androne nascosto diciamo erano ovviamente preoccupati per quello che avrebbe potuto dire in serie di spontanee dichiarazioni si capisce chiaramente che si stava decidendo cosa doveva dire Mancini cosa dare alla procura della repubblica fin dove spingersi l'arresto di mancini è stato arrestato dagli uomini del nucleo di polizia di polizia tributaria della guardia di finanza Riccardo Mancini ex amministratore delegato di EURSPA corruzione concussione i reati che gli vengono contestati secondo la procura ci sarebbe una tangente da 800.000 euro versata per una commessa di 45 filobus nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere risulta indagato anche un altro dirigente eccomi belloni ti fai calzare e ti raggiungo hai saputo quello che è successo sì no non lo so con niente però ho trovato la chiamata hanno arrestato Riccardo ah sì chi l'ha arrestato ieri non lo so solo lui hanno arrestato stanno facendo tante perquisizioni hanno arrestato Riccardo Mancini questa mattina all'alba no va bene ok non ne va sentire va benissimo brazo ciao domattina in carcere a Regina Celi l'interrogatorio di Mancini descritto nell'ordinanza come fidatissimo collaboratore del sindaco Alemanno verso il quale è in totale soggezione secondo il GIP Alemanno ha dichiarato esprimo piena fiducia nella magistratura della vicenda non so nulla il sindaco Alemanno che cosa fa quando uno dei suoi uomini va in difficoltà lo accanna come diciamo a Roma lo accanna scappa dice Magini stai in difficoltà prendiamolo in distanza cioè andava contro tutti quelli che erano i miei principi eccomi qui eccomi qui dove stai? ti ragionavo io sto sotto la carminati carminati era apparzo come regista della strategia difensiva di Mancini e la strategia e la strategia è una strategia tutoria nei confronti di Mancini per guadagnarne l'omertà confermo la presenza di tutti e tre carminati carminati arriva all'appuntamento con Pucci in compagnia di Fabrizio Testa un vecchio amico la sua interfaccia con la politica romana di destra devono discutere della strategia difensiva di Mancini e si recano in uno studio legale che da qualche settimana è sotto controllo abbiamo evidenze che ci fanno comprendere che l'attività dell'avvocato il suo studio possa esulare dal mero mandato difensivo abbiamo l'evidenza di Mancini abbiamo ulteriori evidenze che ci portano a pensare che carminati utilizzasse lo studio per fare incontri e tenere conversazioni riservate e una di queste conversazioni riguarda proprio l'arresto appena avvenuto probabilmente ha preso quello che è più e più debo in questo momento di un re perché le informazioni per cari cazzo questa realtà non è stata l'arresto di armi ma non è pura questo momento che è meglio aspettare le cose ma più tanto più male si fa qui fino a finale le elezioni lui non riesce non riesce se mette in testa ma dico questa cosa guarda fino a le elezioni metti la dieta metti la dieta mettiti a dieta dicono carminati e pucci fatti il carcere e zitto hanno la preoccupazione che diciamo la permanenza in carcere possa provarlo hanno la preoccupazione che possa parlare e con l'avvocato carminati è ancora più esplicito le elezioni sono quelle per il sindaco di Roma il gruppo intende investire sulla rielezione di Alemano e Mancini non deve parlare però a differenza di carminati lui non vive più in un ambiente dove il carcere è messo in conto e l'omertà una regola da rispettare a Mancini era stato chiaramente prospettato che una cosa è farsi tre mesi di carcere e poi uscire e avere gli amici una cosa è il contrario tutto questo ce lo racconta Buzzi un concetto che Buzzi spiega bene ad un suo amico un pregiudicato calabrese che si è speso per far arrivare un po' di conforto a Mancini nel carcere di Re Bibbia e a Mancini è stato arrestato una ragazzata poi i soldi non si le ha presi lui sicuramente i soldi si le ha presi lui guarda gli ande vulnerati noi sappiamo chi è andato tutta Roma chi è andato però quando è restato vediamo se ce lo dice è meglio tenere in botta fai un pante fatica a Roma e quando esci torna sempre a cavare se tenere in botta Muzzi racconta chiaramente che Carminati aveva minacciato i Mancini li aveva preso a muso duro gli aveva fatto capire che non doveva parlare ma anche la sezione prima che cosa succede per il sordaglio si sta comportando però te l'hanno arrestato un po' di botta i cani no? si ma poi all'attento gli ho fatto trovare un po' di amicizia di calore lui si era messo pure pensa non usciva dalla cellula si era messo paura perché lui era abituato bene era abituato con quattro domestici già che noi entriamo in carcere e entriamo penso a uno che è piuttosto con quattro camadieri e tre giorni inizio è lavato penso la rete di protezione sembra funzionare Mancini dal carcere non parla scampato il pericolo ci si può anche scherzare sopra questa è una persona che sta in Mancini no? ma tutti c'è paura in Mancini guarda stai con la parla che ho dovuto sguida ci mappa tu l'hai giugato anche perché se parti chi giudice in bagno in cazzo tanto esci sei mesi massimo hai uscito dopo sei mesi con gli amici io ci ricordo dopo tre mesi non ti riguarda pure l'autatua non ti riguarda tre mesi devi piacere mi faccio l'attività di intercettazione all'interno dello studio dell'avvocato continua e dà i suoi frutti in termini investigativi finché Carminati non si presenta nello studio con delle rivelazioni esplosive Carminati si presenta allo studio ma non parla all'interno dello studio si li porta fuori e fuori dal portone dove nessuno li può ascoltare li avverte che lo studio è sotto controllo convocano per fare una prima bonifica Giovanni De Carlo un altro soggetto emerso nell'ambito dell'attività investigativa Giovanni De Carlo è un cliente dello studio ma è anche un personaggio noto nel mondo della malavita romana e non solo il dato rilevante è che una volta che Giovanni De Carlo effettivamente ritrova la microspia gli avvocati ha presa la notizia decidono di lasciarla lì non fare nessuna denuncia di conservare lo stato delle cose gli intercettati non strappano via la microspia per non far capire di averla scoperta ma gli investigatori lo sanno ugualmente perché la civice disattivata non era l'unica solo che ormai anche le altre sono bruciate possibile strumento in mano agli intercettati che potrebbero inquinare il resto delle indagini con discorsi non più genuini ma c'è una domanda alla quale rispondere chi ha avvisato Carminati della cimice? Carminati è stato sempre al centro di una serie di informazioni lui era punto di snodo di un'attività informativa anzi di controinformazione continua che gli veniva data da chiunque aveva dei referenti evidentemente aveva dei referenti in tutti gli ambienti d'altra parte l'uomo del mondo di mezzo non può non avere queste aderenze sia che fossero forze di polizia che ambienti della pubblica informazione chiaramente la scopertura dell'ambientale nello studio ci porta dei problemi a carattere investigativo il primo è quello che finisce un'attività di intercettazione fino a quel momento positiva il secondo è che Carminati aveva avuto la notizia quindi era importante capire la fonte della notizia e quali altre notizie poteva portare a Carminati come fa Carminati a conoscere l'attività dei carabinieri che gli danno la caccia questo è rimasto un mistero i miei rapporti con Carlo e con Riccardo sono gli stessi rapporti è un rapporto quarantennale noi ci conosciamo da quando ci apriamo forse 16 anni quando c'è un momento di difficoltà uno va a aiutare l'altro perché questa è la nostra storia perché questa è stata la nostra vita nonostante poi ognuno di noi abbia fatto una vita diversa uno ha fatto un imprenditore uno ha fatto la sua carriera uno ha fatto la politica cioè alcune vecchie conoscenze di Carminati gli ex camerati Riccardo Mancini e Carlo Pucci con l'aggiunta alle manno hanno avuto accesso alle stanze dei bottoni e ora sembrano intenti ad aiutare Carminati nei suoi affari nascosti con le cooperative rosse di Salvatore Puzzi ma le indagini giudiziarie per corruzione in cui resta invischiato Riccardo Mancini ne offuscano il potere così emerge un altro amico dei tempi passati Fabrizio Testa a sua volta legato al sindaco Alemanno e a Luca Gramazio stella nascente della destra romana sono questi gli uomini su cui Carminati sembra poter contare per favorire i suoi affari nascosti col comune di Roma ed è lo stesso Carminati che racconta ad un amico imprenditore com'è composta la sua squadra Fabrizio è un uomo di Luca salvatore e Buzzi Carlo Pucci Fabrizio Testa e Luca Gramazio sulla squadra di Carminati però pesa un destino incerto perché all'orizzonte ci sono le elezioni comunali e la conferma di Alemanno non è affatto scontata è aprile e Roma è in pieno clima elettorale questa campagnetta ci ha permesso di rifare un'operazione verità facciamo in modo che tutto il popolo di Roma possa scegliere tantissime con noi Roma Roma andrà verso il futuro grazie per quello che avete fatto andiamo avanti fino alla vittoria grazie la destra cerca la riconferma del sindaco uscente Alemanno mentre il candidato della sinistra è un outsider della politica il chirurgo Ignazio Marino la monnezza innanzitutto ce ne occuperemo la raccoglieremo quello che non ha fatto il sindaco in questi anni è rimasto fermo lì faremo la differenziata liberiamo Roma domenica liberiamo Roma arrivano le elezioni e incomincia un po' di preoccupazione si affaccia sulla scena romana Marino il marziano cioè una persona che apparentemente non è legata a nessun tipo di corrente quindi spiazza tutti sono giorni delicati per Buzzi e Carminati che stanno facendo ottimi affari con l'amministrazione comunale di destra guidata dal sindaco uscente Alemanno tirano le elezioni Alemanno perché loro dicono si rivince Alemanno non c'è problema da qui ai prossimi cinque anni siamo a posto compagno senza cravatta il compagno il compagno Alemanno pronto Gianni come stai? allora ma è vero se sei il disgiunto? facciamo il disgiunto facciamo oggi faremo questo mi onora molto non lo possiamo dire però mi raccomando va bene? non lo possiamo dire no no va bene va bene poi si nota poi si nota il comunista Buzzi promette ad Alemanno il voto disgiunto gli promette che lui e i lavoratori delle sue cooperative naturalmente orientati a sinistra pur votando il loro candidato al consiglio comunale come sindaco invece voteranno lui l'ex camerata Alemanno però mi raccomando per me per me gliela fai gliela fai sì penso di sì che c'è una recupera poi ovviamente bisogna vedere cosa mai sottopare l'avversario va bene ok ti abbraccio presto ciao ci vediamo domani sera stai domani sera giù a i pescatori ci vediamo ci vediamo domani sera allora ti abbraccio ciao ciao Salvatore Buzzi oltre ad offrire un consistente bacino di voti finanzia e partecipa alle cene elettorali di Alemanno pronto? ma cosa faccio che non rispondevi a tre perché sto sempre in sua modo senti un'altra cena col sindaco e col Silvio e lo so ma che cazzo ma mille è una persona va bene va bene io quante persone devo portare siamo in tavolo da dieci eh dimmi appunto alla cena del 16 maggio è presente anche l'ex premier Silvio Berlusconi che nelle battute finali della campagna si sta impegnando per sostenere il candidato della destra che si sta impegnando che si sta impegnando le mando le mando mi ha presentato a Silvio dicendo si presenta il tipo delle recuperative rosse di Roma e poi gli ha detto dobbiamo fare questa foto storica si è messa in quota con me bellissimo bellissimo ma siccome ha detto Perlusconi che sta a fare faceva una foto con sto scorosciuto insieme a Zinda da centinaia hanno fatto la foto bellissimo bellissimo ma di culo ma Silvio poi tremendo a un certo punto la rimanda dice questa vannata dice il presidente si cazzo la canzone se mi fate un'offerta siamo in campagna che merda che merda che sbarri che fa c'è il presidente 5 mila euro per 5 mila euro canto poi gli hanno volo dare 5 mila per farlo smetta buongiorno a tutti è sempre stata di sinistra questa città infatti 11 miliardi di debiti diciamo così va 9 soldi da sinistra e 2 si è fatta alle manno 5 miliardi di debiti in più vabbè queste sono le disgrazie di Roma anche Carminati si è messo in moto per le elezioni servono persone di fiducia nel consiglio comunale soprattutto ora che il loro amico Luca Gramazio ha lasciato il campidoglio per la regione con l'approssimarsi della campagna elettorale incominciamo a registrare dei contatti con un altro soggetto gravitante nella medesima area di politica di Luca Gramazio il consigliere Giovanni Quarzo con il quale testa e Carminati alla fine dell'aprile del 2013 si incontrano in maniera riservata nei pressi di Piazza dei Giochi Termici Giovanni Quarzo è un giovane avvocato che sta facendo carriera nel partito di Berlusconi Carminati lo appoggia i carabinieri ne hanno la conferma ascoltando il pirata mentre propone il suo sostegno ad un altro politico la Roma è famosa diciamolo anche per le buche arriva a questa e mi fa il criminale e mi chiude le buche la criminale Carminati fa riferimento ad un conduttore radiofonico molto noto a Roma il suo amico Marione all'anagrafe Mario Corse nella sua trasmissione ha ospitato diversi politici è uno dei programmi sportivi più seguiti dai diffusi romanisti che proprio in questi giorni sono delusi per la sconfitta nella finale di Coppa Italia questo è il momento più nero della storia della Roma e deve uscire fuori Bruno Conti a parlare non il sorcio di questi Mario Corse e Carminati si conoscono fin da ragazzi insieme hanno frequentato i NAR e insieme sono stati indagati e poi prosciolti per il duplice omicidio di Fausto e Iaio questi sono i volti di Lorenzo Iannucci e Fausto Tinelli i due giovani della sinistra extra parlamentare uccisi ieri sera due ragazzi della sponda politica opposta giustiziati a Milano nel 1978 con otto colpi calibro 32 Mario Corsi è rimasto estraneo a questa indagine ma il legame tra lui e Carminati non si è mai rotto e di tanto in tanto li porta a rievocare il loro passato questo è un paese che 30 anni fa noi abbiamo sbagliato tutto noi dobbiamo ammazzare i tuoi banchieri capito e quelli delle agenzie delle tasse capito solo loro riesce a perdere tutto secondo me tutto il popolo che sarebbe venuto solo la raffa ci ha pensato sotto i loro grandi cittadini sotto i loro banchieri al capo per le tante ammazzate l'unità deve ammazzare il mio caglio il pubblico è il capo del banco se tu che cosa fai esigi le tasse ancora una brutta vicenda che evidenzia il modo di fare politica di alcuni personaggi messi ai vertici dalle mani arrestato a Roma l'ex amministratore delegato dell'ente euro corruzione e concussione reati contestati indagato anche un altro dirigente descritto nell'ordinanza come fidatista la campagna elettorale della destra però è frenata dalle indagini giudiziarie e dai continui scandali che travolgono la giunta in carica e le inchieste giudiziarie non risparmiano neanche il comune di Roma i magistrati indagano su una poi però rimanano se circondano sempre di gente che ruba dove deve stare gli investigatori intercettano Buzzi mentre ne parla ad un amico calabrese ma quanto carcere ci vuole ria se doveva avere un arresto a tutti non devi dire così noi in politica ci stiamo bravo perché anche lì la campagna politica perché loro che faccio io lo danno tanti perché io lo voglio finanzio i giornali faccio pubblicità finanzio eventi pago segretaria pago cena pago manifesti questo è il momento che paghiere più perché stanno in elezione con una poi faccio in quale gli investimenti gli investimenti di Buzzi sulla rielezione di Alemanno però sono sempre più a rischio gli ultimi sondaggi lo danno sfavorito così anche Buzzi che gli ha tirato la volata deve mettere in conto la sua sconfitta e cercare dei rimedi se sbaglio gli investimenti se punti sul cavallo sbagliato ma c'ho quattro cavalli che corrono col pd poi con la pd c'erano tre e con marchini c'è c'è rapporto con l'uva quindi è lo stesso Buzzi ha dei cavalli che corrono con la destra ed altri con la sinistra non vuole rischiare di trovarsi spiazzato nel caso in cui non venisse confermata la giunta uscente Buzzi Buzzi C'è Luca 4 euro 5.000 euro al metro ogni metro 1500 euro al metro ma che costo non so che tu conosci e dai un altro mi viene da porti con i d*** 2005 al metro un altro mi viene da porti al comune 1500 un altro 750 non è presa da sedio Roma e quindi mi trovate tutto ma non è solo 10 milioni ogni mese ma gli entra tutto io c'ho gli entra tutto concluso il voto alle elezioni amministrative ci sono già alcuni verdetti importanti ma in molte città si andrà al ballottaggio per il capitolio Marino avanti su Alemanno il voto del 26 maggio conferma le previsioni al primo turno il risultato di Alemanno è deludente con Marino in vantaggio di oltre 12 punti rispetto al sindaco il candidato della sinistra però nonostante la netta vittoria non è riuscito a raggiungere il 50% tra due settimane si andrà al ballottaggio dovranno fare i conti con Marino ma resta ancora qualche giorno per chiudere gli affari con la vecchia giunta poco dopo puntuale arriva la chiamata di Carminati ciao amico mio bello amico mio come stai che stai sei andato in giro a riposizionarti amico mio ma allora ma già riposizionarti noi stiamo questo sì questo sì che sa mai dobbiamo chiudere tutte le cose nostre entro due settimane dobbiamo mettere tutti questi al campo nomadi che non possa speriamo bene i meccani per questo giardino aprono domani quindi insomma è tutto monitorato quando c'è problemi chiamo te e andiamo da un luogo chiamalo subito il fanno mio nostro ci sono mai i ballottaggi delle elezioni amministrative a Roma triunfa Marino abbiamo liberato Roma Roma rinascerà D'Arie il 10 giugno come previsto Ignazio Marino stravince il ballottaggio tre giorni dopo tiene il primo discorso in Campidoglio questa lasciatemelo dire è la capitale ed è da qui che dobbiamo riacquisire un ruolo di guida guida morale per il nostro paese il nuovo sindaco ancora non conosce usi e costumi della politica romana a differenza di Buzzi ha vinto Ignazio Marino al comune di Roma ma non è ancora stata fatta raggiunta questo è un altro momento di forte fibrillazione in particolare per Buzzi nei giorni successivi al risultato elettorale i carabinieri del ROS lo vedono muoversi freneticamente tra uffici comunali e dipartimenti è cominciata la campagna acquisti nel mondo della sinistra che ha conquistato il comune buon amico mio anche perché vedo vedo leggendo i giornali ci stanno delle ipotesi veramente fantasiose sono in quattro sanno quello che succede marino zingarizzi e meta e allora vai a battere con questi amico mio amico qui siamo per affari non è che possiamo farci cogliere di sorpresa è bene che tutti metta la minigonna e ti spenda per capire dove dobbiamo andare a parare i nove cavalli sono tutti e nove dentro il rosso buzzi è pronto è già iniziata l'infiltrazione nella giunta di centro sinistra tocca a lui visto il suo passato farsi carico dei rapporti con i nuovi padroni della politica romana ma anche carminati può fare la sua parte assieme a riccardo brugia incontra il suo amico mario corsi il conduttore che ha ospitato nella sua trasmissione diversi candidati carminati dice una cosa importante perché lui dice a mario corsi io mi sono impegnato io ho fatto delle campagne elettorali io ho fatto e quindi adesso loro devono fare e che c'è da fare bene lo devo fare io perché se non lo faccio io poi diventa una cosa scredita carminati parla così con i suoi vecchi amici ma insieme a queste sintesi un po spicce gli investigatori registrano anche manovre più raffinate all'opposizione alla destra uscita sconfitta spetta la presidenza della commissione trasparenza l'organo che controlla la regolarità degli appalti e così tornano di nuovo utili gli ex camerati secondo quanto appare agli investigatori la squadra di carminati si mette in moto per favorire la nomina di giovanni quarzo il candidato appoggiato dal pirata per questo la mattina del 16 luglio l'amico fabrizio testa chiama giovanni quarzo questo non ti voglio rompere palle sono non ti preoccupare e voglio nessuno se posso essere utile o meno questa la domanda a dirti guarda l'ha spiegato luca la questione del tempo di 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 attivarmi capito ok solo per quello per essere come stai bene 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 ok ti ringrazio molto ah già la squadra la squadra mi chiede no grazie mille testa chiude la telefonata con quarzo e subito chiama carminati buongiorno eccomi bello mio è una faccenda delicata i due si danno appuntamento al giorno dopo meglio parlarne di persona eccolo ecco ci abbiamo papà charlie e quell'altro si separano rimangono a parlare pochi minuti come carminati si allontana testa chiama giovanni quarzo fabrizio allora è partita l'operazione benissimo allora l'unico problema è esattamente quello che dici te ma già ci hanno parlato ci stanno parlando in questi minuti guarda io sono causamente ottimista perché diciamo che tutti sanno quello che va fatto stanno già operando quindi prodotti già operativi sui argomenti tre quattro giorni ci vogliono adesso sicuramente però ormai siamo partiti benissimo i due hanno concordato una strategia per risolvere questo problema la destra controlla solo tre dei sei gruppi dell'opposizione devono fare in modo che un altro gruppo passi dalla loro parte con il passare delle ore però ad un intervento diretto di carminati viene preferita un'altra strada evidentemente ritenuta più sicura e la nuova strategia viene confermata carminati il 23 luglio durante un incontro organizzato da fabrizio testa presenti luca e domenico gramazio luca è il giovane politico loro amico che sta scalando le posizioni nella destra romana domenico il padre è un ex leader missino dei tempi della militanza di carminati diventato famoso per i festeggiamenti in senato dopo la caduta del governo prodi senatori contrari 161 senatori 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 no 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 togliete quella bottiglia la la stiamo mica all'osteria prego nasce il senatore gramazio e così parte una manovra complessa e quantomeno spregiudicata per scardinare la situazione di parità giovanni quarzo ed un altro consigliere del pdl passano al gruppo misto che in realtà è composto da una sola persona due contro uno lo sfiduciano e così arrivano a controllare quattro gruppi su sei i giochi sono fatti il 24 settembre giovanni quarzo inquisito ma poi però sciolto nel corso dell'indagine viene eletto presidente della commissione trasparenza qualche tempo dopo rientra nel gruppo del suo partito la manovra è andata a buon fine in effetti il patrimonio di relazioni di carminati si è rivelato particolarmente importante per il suo talizio in questo come in altri casi il 13 giugno del 2013 una persona mai vista prima lo raggiunge al distributore di corso francia i due sembrano amici si fermano sulla panchina a chiacchierare carminati lo filmiamo mentre parla amabilmente con possessere ex direttore commerciale di film meccanica film meccanica è una realtà molto importante un'azienda che fattura 12 miliardi e mezzo l'anno un gruppo fra i primi 15 al mondo nelle produzioni aerospaziali e nelle tecnologie militari paolo possessere estraneo a questa indagine è stato direttore commerciale di film meccanica fino al 2011 prima del cambio al vertice seduto sulla panchina ha parlato più di un'ora con carminati di politica dei loro guai con le procure e poi di film meccanica o meglio delle lotte interne a film meccanica come mai carminati è così informato sulle dinamiche di potere interne all'azienda quali sono le sue fonti in questa indagine i carabinieri non hanno rilevato rapporti tra lui e fin meccanica però hanno intercettato salvatore buzzi nel suo ufficio mentre ne parlava ma lo sai che si dice massimo ma non è che basta di portarmi perché la loro sott'entrata di tutti meccanica borsone d'oro che tutti vanno a portare i nostri frumi di vinodio che non mi avviene tutti che meccanica io ho sentito la dichiarazione di buzzi in cui io sarei stato una sorta di ufficiale pagatore ma io vorrei vedere qualcuno che mi mette i soldi in mano a me per portarli a qualcun altro non lo consiglio a nessuno se non mi metti i soldi a me per portarli a qualcun altro sbaglia completamente perché quei soldi me li metti in tasca saluto tutti state tutti bene così intanto in campidoglio il nuovo sindaco marino non perde tempo gli bastano 14 giorni per formare la nuova giunta di centrosinistra anche buzzi ha lavorato sodo e aggiorna il socio amico mio eccomi bello mio tu ieri hai fatto tripletta come è andata la riunione intanto è andato bene? io la tripletta l'ho fatta e quindi tutto a posto quello che è fondamentale che se fai la tripletta è tutto a posto no è andato bene ho visto tutti c'è da seminare insomma c'è da seminare insomma insomma e seminiamo dai poi dopo mi diciamo due settori e dieci consiglieri meglio che così che cazzo dai ben partito sei te il verosino il riposizionamento sta funzionando ma è un'operazione complessa che richiede il suo tempo bisogna mettere dentro i cavalli nostri al di là del sindaco il sindaco vale quanto sindaco ma in realtà poi ci sono i capi di partimento ci sono gli assessori ci sono i consiglieri che devono votare le varie emozioni quindi c'è bisogno di una squadra di cavalli Buzzi ha già trovato referenti nella nuova giunta come il neo assessore del PD Daniele Ozimo ma soprattutto può continuare a contare sui funzionali comunali sulla burocrazia impermeabile ad ogni cambiamento senti poi forse pure prematuro dirla però al 90% il quinto dipartimento si occupa delle politiche sociali gestione dei campi rom accoglienza di migranti emergenze alloggiative ma ad interessare Buzzi sono anche gli appalti banditi dal decimo dipartimento appalti che riguardano la manutenzione del verde pubblico delle ville e dei giardini comunali la raccolta dei rifiuti e la pulizia dei palazzi e degli enti pubblici ho preso 4.000 e mezzo di pulizia dei tuoi bonus quasi per scuola 4.000 e mezzo non è la c***a di bisogno non è la c***a di bisogno è la c***a di bisogno è tutto? quindi alzare nella polizia dei campi però se tu ti riesci a tenere a comprare o se caccia o se caccia certo o se compra o se caccia quindi c'è l'alternativa non è che o se compro lasciamo stare o se compro o se caccia però se si compra è meglio Carminati dice che è meglio comprarlo questo dirigente comunale così una mattina presto Buzzi si incontra con lui pochi giorni dopo la cooperativa assume tutte e due le gemelle e i suoi nipoti nei meandri della burocrazia Buzzi sa bene come muoversi lui è molto popolare tra i funzionari comunali il 2 ottobre 2013 il segretario di Mirko Coratti eletto nelle file del PD e divenuto presidente del consiglio comunale gli manda un sms caro salvatore ti devo parlare del bando ama Mirko ne ha parlato con la *** gli investigatori deducono che si tratta di una gara per la raccolta rifiuti molto singolare i valori di base dell'asta sono molto più alti dei valori normali un'ottima opportunità ma anche l'occasione giusta per agganciare il presidente dell'assemblea capitolina Mirko Coratti esponente di spicco dei democratici romani Buzzi e i suoi collaboratori si mettono subito al lavoro Senti allora ragazzi la registriamo così i nostri astri ne ha mai che faccio l'incendio che la dovevano essere la *** che era un po' di serra e i Coratti che il venerdice vado a prendere un bel caffè ah, un po' di i Coratti ah, un po' di i Coratti c'è una cosa di 10 inverno e troppo cioè c'è un po' di... un caffè di 5 euro un po' di 5 euro un po' di 5 euro un po' di 5 euro Gli investigatori non hanno registrato l'incontro con Mirko Coratti ma una settimana dopo sempre nel suo ufficio Buzzi parla così ad un fidato collaboratore Buzzi lo dice la mucca va foraggiata ma dopo che è stata foraggiata va anche munta quando poi la mucca verrà munta si ricaverà molto di più di quello che si è speso poi però gli ho detto guarda, guarda, guarda ma c'è un milione e mezzo ancora da spesso c'è un milione e mezzo sul servizio giardini c'ho 3 milioni sul sociale c'ho un altro milione sul sociale oh, gli ho partiti a 10 milioni eh, quanto? perché lui a me non mi interessa tanto sul servizio giardini come c'è? mi interessa sul servizio giardini io non riesco a parlare nemmeno con il muro ma tutto, se ci devi portarmi proprio ma gli ho detto a lui guarda, io vado via 3 milioni siamo andati a 6 milioni, 170 così la fama di Buzzi, gran pagatore si allarga fino al punto che non è più lui a dover cercare i politici ma sono loro a bussare alla sua porta va bene, senti, che te lo dico? va bene, ma almeno sta cosiddino quest'uomo è un consigliere comunale eletto in una lista di centro-sinistra e sembra concordare con Buzzi uno stipendiuccio extra di 1000 euro al mese tante volte Roma è stata invasa, violata, saccheggiata ma è una madre generosa che sa perdonare perdona e concede a tutti una seconda occasione se non una terza o una quarta così anche Gianni Alemanno, già ministro stroncato sulla via del secondo mandato da sindaco cerca una nuova occasione nel maggio 2014 si candida al Parlamento europeo e Buzzi, nonostante sia impegnato a foraggiare gli esponenti del centro-sinistra decide di aiutarlo quanto? oh, bello mio, sono io no, no, è la campagna elettorale senti, senti io... no, no, sì, vabbè senti Alemanno è candidato nella macro circoscrizione del sud Italia ha bisogno di fondi ma soprattutto di voti per essere eletto al Parlamento europeo Buzzi, d'accordo con Carminati affida la pratica al suo amico e collaboratore calabrese Giovanni Campennì gli chiede di spendersi per la causa Buzzi 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 C'è, c'è Dandana, ma no Alemanno è una campagna elettorale ma gli lascio i numeri tuoi, così li chiamano Sì come chiama? Eh, Alemanno, le faccio chiamare come chiama Alemanno? Eh La sciopente, sì E perché, scusa, per questa campagna elettorale è ovvio che lui Voto Antonio, Voto Antonio mica può venire lì, scusa perché la circoscrizione è grandissima è Abruzzo, Campania la Calabria, Puglia ma come fa a giocare quella gira tutta l'Italia? Ho capito, ho capito va bene, dai Come vuoi? Sono telefonate legali Voto Antonio ancora si può fare in Italia Voto Antonio, sono legali Sì E allora che sia voto di scambio basta che sia voto di scambio tutto è legale uno può votare gli amici gli amici le costranno ancora votare Va bene, allora e qua la famiglia è grande non voto ci vuoi dare Esatto Il discorso lo sai che qua fratelli d'Italia non ne ho visto da nessuna parte E che te ne frega tanto ho passato nell'urna vuol dire nell'urna è il simbolo fratelli d'Italia scrivi alle mando vicino capito? Va bene, va bene, dai va bene Ok Come vuoi tu? Tu sei il mio principale tu sei... Ma quello è un amico nostro Il mio presidente è stato pure in galera le mando aiutavo erano alle otto puro eh sì ti hai fatto sei mesi dentro sei mesi? come quanta mia finge allora? eh vedi vuoi dire hai fatto questo e sì c'è al comuna c'è al comuna qualcosa c'è al comuna qualcosa c'è al comuna qualcosa è un mezzo è un mezzo Pronto? Pronto? Oh buongiorno buongiorno come stai senatore? Bene, bene uè senti ti disturbo per questo sulle questioni tue devo fare delle telefonate devo fare qualcosa eccetera eccetera no 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 tranquillo tranquillo ora le manderemo a l'elenco di persone i nostri amici del sud che stanno al sud e che ti possono dare una mano con parecchi voti va bene t'abbraccio grazie 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 a te ciao t'abbraccio ciao non c'è solo l'amico Giovanni Campenni Buzzi deve comunicare l'elenco delle persone che possono aiutare Alemanno nella campagna elettorale e incarica un suo collaboratore gli ha detto guarda manda al comitato elettorale di Alemanno sette nomi sette persone fidate che possono aiutare Alemanno nelle regioni del sud Italia evidentemente questo non capisce e gli manda la lista di tutti i dipendenti della 29 giugno centinaia di dipendenti di una cooperativa rossa che evidentemente non gradiscono di vedersi recapitare materiale propagandistico di una lista di destra e anche Buzzi scoperto l'errore non gradisce non gradisce ma perché se tu dici vai all'ufficio del personale prendi le liste e gira le a*****e soltanto dei nomi come telefono ma i lavoratori non ci seranno prima ma che sono cretini io gli ho detto sette nomi e non gli ho detto e gli ho detto e la mafia gli ho detto gli amai dei questi no Alessandro ma perché tu mi fate vedere le cose in uscita mi fate sto cazzo da pure e fate le cose in uscita e erano sette nomi i mafiosi e gli ambo da e se c***o non è stato io dico i cosi i mafiosi i mafiosi e i mafiosi e per i controlli e per i controlli i controlli o no non so c***o sì ma di c***o mia dati i nomi di tutti i nostri residenti alzutto gli ho dato sì gli ho dato tutti sì ma perché io fa c***ata eh sì perché non lo so ma ma io mi ammaltichi perché le fai eh con sette nomi eh le nomi delle persone fedeli ma che c***o fai i nomi dei tuoi eh eh ero sbagliato sbagliato ma sbagliato lo sbagliato che c***o no ma hai ragione al povere Cerpello ma non so sette nomi erano sette nomi erano non dei più dei sette ma io non mi posso evitare nessuno no e che c***o e che c***o un picca ti viene la corda ti un picchi e si rimane la questione no che gli dai i nomi della sette che non so c***o proprio li guarda la mano gli dai i nomi delle sette persone che gli ho volerato ma che c***o non mi chiede ma che c***o non mi chiede eh non sono sbagliato che c***o non mi chiede non ci ho pensato eh ok ciao 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 che c***o con te voglio tutte le mail chiuse una sola no 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 non voglio star con voi non voglio star con voi non voglio star con voi siete i risoluti siete cazzoni testa di c***o siete ma io c'ho il peso tutta l'azienda e voi giocate viate quanto viate alla montagna dei soldi c***o 100 euro o più che devi io oh ma che c***o fate state lì a giocare a fumare delle sigarette avete rotto il c***o avete rotto non voglio condividere un c***o con voi me ne vado non voglio star con voi allora io sono in macchina apprendo in macchina che c***o mi ha dato 150 nomi invece che i sette che avevo detto mi arrabbio come una iena perché li chiama i sette mafiosi? ma no ma io lo faccio così in senso scherzoso perché è un modo di dire che erano dipendenti della cooperativa chiamano la residenza al sud e la mia nella mia cosa che dico sempre parla che andranghe tanto è vero che io dico sempre che andrina 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 è lui l'amico calabrese di Buzzi intanto viene contattato dal comitato elettorale pronto buongiorno signor Giovanni Campenni si buongiorno la segreteria dell'onorevole Alemanno signor Giovanni ho avuto il suo numero da parte della cooperativa 29 giugno si meglio che sia volevo sapere se era interessato a ricevere materiale elettorale dell'onorevole Alemanno si posso mandarglielo via mail gli do la mia mail si grazie gentilissimo quattro giorni dopo si vota e i partiti fanno i conti a raddoppiare i voti sono i fratelli d'italia per i quali però restano chiuse le porte del parlamento europeo e così nonostante gli sforzi di Buzzi per coinvolgere gli amici del sud Alemanno non riesce a farsi eleggere ma i veri affari di Buzzi rimangono con il comune di Roma ed è lui stesso parlando proprio con il suo amico calabrese a spiegare qual è il suo core business qual è il settore più remunerativo dei suoi affari quest'anno io uso con 40 milioni di fattura ma chiusi abbiamo fatto i suoi zii che hanno una emergenza alloggettiva sui migliori e tutti gli apprenditori ci stanno no vabbè non 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.